Una sera d'inverno, quattro giovanotti stavano cenando in un ristorante francese alla moda. L'elegante salone era illuminato da grandi lampadari d'argento, il cui riverbero metteva in ulteriore risalto gli sfavillanti gioielli delle signore. L'orchestra ungherese suonava dolci waltzer sentimentali. Erano le ore più romantiche della giornata e le pessime condizioni atmosferiche esterne accentuavano il confortevole calore dell'ambiente. L'uomo è un egoista e soltanto quando si sofferma a confrontare il suo modo di vita con quello dei suoi simili meno agiati riesce ad apprezzare la propria fortuna. I pensieri del quartetto, che se ne stava seduto davanti ai calici ricolmi, andavano ai quartieri più poveri, dove in quel momento tanti emarginati, inzuppati dalla pioggia e sballottati dal vento, si aggiravano per le strade alla vana ricerca di un riparo. Poiché erano estremamente giovani, sembravano quasi squazzare in una simile conversazione e non si risparmiavano coloriture e dettagli. Il più anziano dei quattro, Pien Delienne, era un ragazzo biondo, di bello aspetto. È una serata ideale per progettare un crimine, fece notare ridendo mentre si dondolava sulla sedia, soffiando evanescenti anelli di fumo verso il soffitto. Quando gli scrittori si inventano la trama di un giallo, prendono sempre in grande considerazione gli elementi suggestivi. Ad esempio, proseguì, immaginatevi il palcoscenico di un teatro con uno scenario sinistro. Le nuvole sono basse e foriere di pioggia. Ed ecco entrare uno di quei relitti della sorte, dei quali stavamo parlando poco fa. In una fessura della parete è possibile vedere acquattato l'assassino armato di coltello. Immaginatevi la tensione fra gli spettatori. L'effetto è immediato. Si interruppe additando uno dei compagni. A proposito, guardate Jacques, è già terrio dalla paura, esclamò. Sì, ma hai proprio ragione, replicò il ragazzo che era rimasto ad ascoltare con rapita attenzione. Detesto queste storie macabre. Non potremmo parlare di qualcos'altro? Domandò versandoci del vino. Tutti scoppiarono a ridere. Sono sempre stato nervoso, proseguì Jacques. Da ragazzino ero atterrito soltanto al pensiero di salire da solo le scale dopo il tramonto. Ma i miei mi costringevano a farlo. Allora mi mettevo a piangere e a urlare, aggrappandomi al corrimano e rifiutandomi di muovermi. Questo terrore era causato dagli allucinanti racconti della mia balia, che parlavano di locande solitarie e malfamate, dove i malcapitati forestieri venivano arrostiti nel fumo. Di briganti che nel corso delle loro scorrerie sottomettevano le loro vittime alle torture più spaventose. Di apparizioni notturne, di donne ammantate di bianco, di cadaveri risvegliati dal sonno eterno e di fantasmi gravati di cigolanti catene. Quella stupida donna mi ha rovinato il sistema nervoso. Naturalmente adesso sono più coraggioso, benché continui ancora a guardare sotto il letto prima di coricarmi. Ma proprio il fatto che hai il coraggio di farlo dimostra che non sei veramente spaventato, obiettò Louis Monnier. E se ci trovassi nascosto un brutto ceffo? Ah, smettila di prendermi in giro, si schermi Jacques. Penso di rendermi conto che le mie paure sono soltanto frutto dell'immaginazione. Diciamo che mi piace esorcizzare i fantasmi. La paura sorge dall'interno, sintromisce Pierre. È irrazionale e non può essere spiegata. Sovente sembra non avere una causa apparente e nel caso di certi individui si trasforma in una malattia nervosa. Un uomo sano di mente e di corpo non conosce la paura e gli individui più deboli si trasforma in un morbo incurabile. Ehi, sta attento a come parli, lo interruppe Jacques. Io sono sano di mente e di corpo, proprio come te. Un momento fa hai ammesso di avere il sistema nervoso alterato. Non sono d'accordo con quanto stai dicendo, Pierre, esordì Edmond Souturier che fino a quel momento non aveva preso parte alla discussione. Gli uomini sono coraggiosi, proseguì, quando come soldati fronteggiano la morte sul campo di battaglia e come marinai combattono contro le tempeste e i naufragi. Proprio come i medici che durante un'epidemia si espongono al contagio in ogni momento della giornata e come i missionari che corrono di continuo il pericolo d'essere trucidati dai cannibali. Tutti noi apprezziamo il grande coraggio dimostrato da questi individui. Non è vero? Ma sono convinto che non esista nessuna persona fra quelle menzionate che si sente di giurare di non aver mai avuto paura. La paura scaturisce da certe misteriose influenze e davanti a vaghi pericoli che spesso addirittura non si trasformano in realtà concrete. Proviene dall'esterno ed ecco perché si produce soprattutto durante la notte quando anche gli oggetti familiari cambiano aspetto assumendo contorni grotteschi. Nessuno può considerarsi immune da questo tipo di paura. E invece, voto a Pierre nonostante quanto dici sono pronto a giurare che riuscirai a mantenere la calma per quanto allucinante sia l'ambiente che mi circonda. D'accordo sei pronto a scommetterci? domandò Edmond. Prontissimo. Allora propongo di portarti in Boulevard de la Chapelle o ancora meglio in qualche stradina dalle parti di Perla Chase. Ti lasceremo là per la notte e al mattino ci racconterai con sincerità se hai avuto paura. Non mi sta bene ribadì Pierre sorridendo. In quelle zone malfamate correrei dei pericoli reali a causa dei Magnazza e non gradisco certo l'idea di venire accoltellato per dimostrare che sono un intrepido. D'accordo replicò Edmond su Tourier Allora che ne diresti di trascorrere una notte al cimitero fra le tombe? Potresti vedere alcuni fantasmi che hanno terrorizzato l'infanzia di Jacques. Ma di notte il cancello non è chiusa chiave. Possiamo corrompere il custode. Mi andrebbe anche bene ma non me la sento di riempirmi di umidità fino alle ossa e di beccarmi una bella polmonite. Non farla tanto lunga stai cercando di tirarti indietro. Assolutamente no ma trova qualcosa che mi vada più a genio. Vediamo cosa posso proporre. Un posto orribile ma dove si rimanga asciutti. Un dormitorio pubblico? No, grazie. Non intendo farmi divorare dai pidocchi. Una casa di tolleranza nel quartiere Faubère. Anche lì c'è il pericolo di essere accoltellati. Una taverna? O una balera di infimo ordine? Non ci siamo. e nessuno di questi posti proverà il timore dell'ignoto. Ci sono esclamò Jacques il museo delle cere. Non sapevo che ne esistesse uno. Dov'è? domandò Edmond. Cosa? Vorresti farmi intendere di non averlo mai visto alla fiare di Montmartre? È il posto più orribile che tu possa immaginare. Vi sono rappresentati tutti i crimini più famosi e anche esecuzioni capitali. Inoltre i personaggi sono modellati con della cera giallastra che fa sentir male soltanto a vederla. Ho visitato quel museo in pieno giorno ma non vedevo l'ora di venirne fuori. Adesso dov'è ubicato? Ancora a Montmartre soltanto che si è spostato da Boulevard Rochechouard a Saint-Pierre. Ne sai certo? Sì. Ieri sono capitato da quelle parti e c'è ancora. Allora la proposta ti va? domandò Edmond. Sì la trovo ragionevole. Sarà solo questione di mettere al corrente il direttore. Pagarono il conto e rimasero sorpresi nel notare che erano già le dieci e un quarto. La conversazione era stata talmente coinvolgente che nessuno si era reso conto del passare del tempo. Mentre aspettavano un taxi Jacques prese Pierre da una parte e gli domandò intendi farlo davvero? Certo che sì. Vorrei che tu non andassi lo supplicò Jacques. Ho la strana sensazione che ti capiterà qualcosa di terribile. Non fare la donnicciola Jacques. A proposito intervenne Edmond accostandosi. Quanto ci scommettiamo? Ti bastano venticinque Luigi disse Pierre. Affare fatto replicò Edmond. Le condizioni sono che trascorrerai l'intera serata nel museo del lecere e domani ci riferirai in tutta franchezza se ti sei spaventato o no. Prometto di fare esattamente come concordato affermò Pierre sbottando nella sua solita contagiosa risata. La compagnia si mise in cammino. Non pioveva troppo e il vento si era alquanto calmato ma quando arrivarono a destinazione la zona era pressoché deserta. Quel tempaccio aveva tenuto lontano i visitatori e stanco di prender freddo per nulla il proprietario del museo aveva deciso di ripararsi in un'osteria dove finalmente venne scovato dai quattro amici. Edmond cominciò a spiegare lo scopo della loro visita ma dapprima quello rifiutò quasi di prestargli ascolto sospettando evidentemente una rapina tuttavia la vista di un piccolo plico di banconote gli fece cambiare idea e benché con una certa riluttanza la consentì ad accompagnare Pier al museo gli altri lo accompagnarono fino all'entrata dove gli augurarono la buona notte Jacques e Louis bloccherono un tassi e si fecero accompagnare a casa mentre Edmond annunciò che avrebbe terminato la serata andando a ballare in qualche locale di Montmartre Pier seguì il proprietario del museo che con una lanterna in mano aprì la porta e scostò una tenda cominciò poi a far strada giù per i gradini sconnessi che la pioggia aveva leso pericolosamente scivolosi teneva la lanterna alzata in modo che Pier poteva vedere quanto lo circondava un livido riverbero rivelò la riproduzione dell'assassinio di Guffet Pier cercò di trattenersi dal ridere mentre osservava la figura di quel povero relitto tospeso per aria con la lingua fuori dalla bocca mentre il boia con le vene rigonfie per lo sforzo tirava la fune l'uomo camminava a passi lenti e di frequente si fermava per illuminare altre macabre scene una di queste riproduceva esattamente l'immagine che Pier aveva evocato nel ristorante una strada deserta in un quartiere fuori mano una notte invernale l'assassino nascosto in un angolo buio che balza addosso allo sfortunato viandante l'oscuro artista che aveva modellato tutte quelle teste doveva essere dotato di un senso dell'orrore estremamente sviluppato all'assassino aveva conferito un'espressione particolarmente sinistra e brutale e alla vittima un assieme di linamenti contorti rivelatori della morte che era sopraggiunta in maniera tanto orribile Pier si stava divertendo come un matto e per compiacere l'anfitrione gli fece i complimenti sui modelli a quel punto arrivarono a una sequela di teste mozzate appartenenti a una decina di personaggi famosi che erano stati ghigliottinati erano adagiate su dei cuscini di velluto blu e sporgevano leggermente in avanti al fine di evidenziare la sezione recisa così allineati così fossero imparata realizzati con una cera di colore osceno con i denti cariati macchiati di nicotina che apparivano da sotto lunghi baffi spioventi non costituivano davvero una bella visione alla fine di quella fila dolente si trovava una ghigliottina sotto la quale era disteso il corpo decapitato di un uomo la lama era lorda di sangue e la testa giaceva nel cestino questa macabra rappresentazione era seguita da una serie di illustrazioni che rappresentavano la vita dell'uomo dalla prima infanzia fino alla decapitazione non possiamo andare oltre annunciò il proprietario pertanto vi lascerò la lanterna io sono in grado di tornare indietro anche al buio ma Pierre ansioso di vincere la scommessa rifiutò il conforto della luce l'uomo si allontanò e lui fu lasciato solo da qualche parte nella fitta oscurità un orologio suonò la mezzanotte aveva smesso di piovere ma il vento pur pacandosi continuava a gemere e a soffiare gonfiando le pareti di tela che racchiudevano a quell'atmosfera allucinante Pierre accese un cerino e trovò una sedia dopo essersi abbottonato l'impermeabile fino al collo si sedette con l'intenzione di addormentarsi cominciò a pensare agli amici che in quel momento se ne stavano presumibilmente al calduccio fra le coperte era brevi di un po' quante ore prima dell'alba ancora lo attendevano si alzò e accendendosi una sigaretta cominciò a camminare avanti e indietro fermandosi di tanto in tanto davanti a un cassone di vetro dove il rosso riverbero della sigaretta rivelava i volti pallidi dei suoi inconsueti compagni che tuttavia non trovava più tanto divertenti anzi lo irritavano stanco di passeggiare tornò alla sedia e si mise a sedere qualcosa premette contro il suo fianco e tastandosi la tasca trovò la piccola pistola carica che portava sempre con sé quando usciva la sera la trasferì nella giacca dell'impermeabile e chiuse gli occhi stava sonnecchiando da circa quindici o venti minuti quando venne svegliato con un sobbalzo da una violenta raffica di vento che cosa si stava muovendo sembravano passi tese le orecchie e dopo aver acceso un fiammifero si guardò attorno e si vide fissato da quei volti orripilanti oh mio dio che mostruosità esclamò cominciando a sentirsi disperatamente depresso non riuscendo più a restarsene seduto ricominciò a camminare e nel tragitto andò a sbattere contro qualcosa di freddo e di duro allungando la mano per mantenersi in equilibrio si accorse con ripugnanza di essere andato a sbattere contro la lama della ghigliottina marcollando accese un altro fiammifero il fuoco riverbero tradì la sagoma di un uomo che sembrava troneggiare su di lui brandendo un coltello il fiammifero si spense e lui fu di nuovo avvolto nell'oscurità e accese un altro ancora quelle teste sogghignanti il gemito del vento gli ricordò il sospiro delle anime perdute cerca di calmarti disse a voce alta è ridicolo farsi spaventare cerca di mostrare a te stesso di essere un uomo mentre parlava un topo attraversò il pavimento emettendo un macabro squittio si arrampicò sull'assito che reggeva le figure di cera e scomparve l'orologio risuonò Pierre tese di nuovo l'orecchio convinto di aver sentito un rumore di passi come se qualcuno fosse entrato nel museo era buio pesto il vento gonfiava ai teloni si ritrovò a immaginare i suoi lugubri compagni di stanza e i loro volte angosciati presero febbrilmente possesso del suo cervello ormai non si chiedeva più se aveva paura sapeva che il terrore lo stava attanagliando un terrore sciocco e irragionevole che era deciso a dominare accese un ennesimo fiammifero e lo tenne sollevato obbligandosi a guardarsi attorno ma quasi subito chiuse gli occhi poiché tutti quei volti lividi sembravano diventati vivi all'improvviso e continuavano a fissarlo con sguardi vitrei repellenti e contorti un sudore freddo gli imperlò la fronte girò su se stesso come se fosse stato sfiorato da qualcosa di misterioso tutto ciò era orribile più di quanto riuscisse a sopportare doveva andarsene tremevondo barcollò verso l'angusta scala ma con raccapriccio si accorse che la porta era bloccata cominciò a scuoterla ma l'assito era sufficientemente robusto per vanificare i suoi tentativi con allucinante certezza si rese conto che sarebbe rimasto prigioniero fino al mattino seguente ritornando indietro accese un altro fiammifero ma la visione che gli si presentò fu più di quanto riuscisse a sopportare e pertanto si affrettò a spegnerlo schiacciandolo sul pavimento aveva ripreso a piovere e il vento continuava a gemere all'improvviso un sibilo lacerante squassò l'aria propagandosi in tutta la stanza si ripetè due volte poi di nuovo il silenzio un silenzio palpabile spettrale minaccioso pieno di incognite ormai Pierre non osava più muoversi con la mente angosciata dalle immagini della testa decapitata del povero guffè era ossessionato dall'immagine di quella rigonfia lingua a penzoloni e dalla lama della ghigliottina macchiata di sangue adesso era sicuro che qualcuno stava spiando all'esterno del museo cercò di mettersi a parlare ad alta voce per rassicurarsi ma il suono della sua voce tremula servì soltanto a peggiorare l'atmosfera e le parole gli rimasero sospese in gola un nuovo terrore lo pervase era certo che tutte le figure di cera avessero cominciato a muoversi verso di lui per soffocarlo cominciò ad agitare le mani per respingerle si sentiva mancare l'aria cominciò a digrignare i denti e aveva l'impressione di essere inchiodato al suolo una risata risuonò nel museo arrivava da quella sequela di teste orribili col cuore che gli batteva come un maglio si voltò di scatto aspettandosi l'aggressione da parte di un nemico invisibile e afferrò concitatamente la pistola per alcuni secondi tornò il silenzio più assoluto poi ecco di nuovo quella risata agghiacciante Pierre si svuotò di ogni forza il timore di essere soffocato da quelle figure continuava ad aumentare ormai dovevano essere pericolosamente vicine i minuti apparivano un'eternità cercò di mettersi a ragionare con se stesso nel disperato tentativo di convintersi che era soltanto quel cupo silenzio a dargli i suoi nervi e che i rumori erano soltanto un frutto della sua immaginazione alterata stava quasi riprendendo a respirare in maniera normale quando ecco di nuovo quella beffarda risata stavolta Pierre capì che non era l'immaginazione a giocargli un brutto scherzo troppo vicino era quell'ultima risata e lui doveva scoprire da dove arrivava cercando disperatamente di farsi coraggio accese uno dei fiammiferi e si guardò attorno e all'improvviso la vide sopra la fila di teste ghigliottinate era un altro volto che sogghignava alla pari degli altri sparuto e pallido con la lingua penzoloni buon dio questa testa decapitata stava cominciando a muoversi era viva ormai Pierre era allo stremo della sopportazione capì di non farcela più ed estratta la pistola fece fuoco un rivolo di sangue uscì dalla fronte della testa mentre cadeva sopra le altre Pierre impugnando ancora l'arma cadde svenuto in domani di buon'ora il direttore del museo arrivato a liberare Pierre inciampò su un corpo riverso lungo disteso per terra indietreggiò in preda al panico vedendone la fronte segnata dal foro di un proiettile cercò di sollevare quell'uomo esanime ma ben presto si accorse che sarebbe stata fatica inutile perché ormai era morto stecchito rendendosi conto di non poter far più nulla per lui si guardò attorno e si accorse che uno dei teloni che coprivano la parete del museo aveva un grande squarcio proprio sopra le teste ghigliottinate arrossate da un rivolo di sangue si sporse attraverso l'apertura e gridò nessuno rispose accasciato sul pavimento c'era il giovanotto che aveva rinchiuso nel museo la sera prima cercò di sollevarlo ma con un guizzo fulmineo Pier gli si scagliò contro e cercò di strangolarlo era completamente impazzito sentendo le urla del direttore alcune persone vennero in suo aiuto e riuscirono pur con una certa difficoltà a immobilizzare il giovane dalle indagini successive emerse il nome del defunto Edmond Suturier era stato lui che per scherzo nel cuore della notte aveva cercato di spaventare l'amico nella speranza di vincere la scommessa dietro il riparo del telone aveva cominciato a ridere e a sogghignare ma anche lui era stato trasformato in una figura di cera dell'info Grazie a tutti